Ieri si è rivelato a San Siro colui che era già noto al mondo di mezzo, il caronte dell'oslave praga Jindrik Triposovski, ovvero il prototipo dell'allenatore benzinaio, cappello da infruttuosa pesca dominicale, vena del collo gonfia come Snyder alla partita delle Inter Legends, grido di chi chiede di spostare la macchina dalla pompa 3 o di chi chiede a Dio di fare qualcosa di meglio, barba etterrica, marsupio con le banconote appoggiate in panchina, corpaccione di chi vuole vivere il divano da protagonista assoluto, calcio Ma io non sono pirla Non c'è niente da fare, quelli che vincono sono più bravi degli altri, piaccia o non piaccia questo è poco ma sicuro Perché ripeto, sono più uomo io che tutti vorresti insieme Demotivato, mollo, ma che mollo, ma che cosa dite, mollo che Something was wrong, I say, hey dilly 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 don, wake up Sono antipatico perché vinco, non è un problema mio Uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli Non c'è altro strato Uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli Buonasera a tutti cari amici ascoltatori, bentornati su IPR Calcio Club L'appuntamento del venerdì ore 17, cari amici Io sono leggermente stanco quindi sarò ben contento di lasciare la parola Mi ecclisso Esatto, ha avuto una giornata impegnativa ma piacevole Insieme ai ragazzi del PCTO con cui stiamo lavorando qua al Pertini Radio Lunedì avrete l'occasione di sentire il lavoro che abbiamo fatto Con tutti i progetti, tutti i format che porteranno i ragazzi di questa scuola dell'Istituto FARC di Sesto Che stanno facendo l'alternanza scuola-lavoro Ma non solo, perché in queste settimane tante cose stanno iniziando Incluso il progetto con il VIBE Di cui abbiamo il nostro esponente calcistico Il massimo esponente Il massimo esponente Enea che è tornato a trovarci Buonasera caro Buonasera, ciao a tutti, grazie di essere qui Ma noi ringraziamo te e io in particolar modo Perché finalmente c'è una maggioranza interista in diretta Come se ce ne fosse bisogno tra l'altro No, beh, nel senso per sottolineare la superiorità tecnica dei Nerazzurri Mentre dicevi queste cose è entrato anche Nico Gelau Che ha aumentato ancora di più la percentuale Nerazzurra Noi siamo circondati Esatto, noi, beh perché lei è da tua parte Buonasera cara, tutto bene? Tutto bene, grazie a voi Molto, molto bene, settimana scorsa non c'eri? Non c'ero Non c'eri Oggi non ho trovato nient'altro da fare Esatto Sono partita Ah, sei partita Sì, ma sei partita proprio te per conto tuo Sì, sì, ovvio Ma Masterchef quindi l'hai visto ieri? No, ieri è iniziato Pechino Express È iniziato Pechino Express E beh, se ci sono le partite dopo le 18, dopo le 21 anzi, non le guardo Basta Però avevi detto di Masterchef, non di Pechino Express Eh, però ho detto, quando finisce Masterchef inizia poi Pechino Sì, l'ho detto Bravo Enea, grazie, meno male che ci sei tu Ok, Enea, guarda che se continui così è l'ultima volta che vieni Tu non devi dare ragione Non devi dare ragione Basta zitto No, beh, quindi se inizia le 21 vuol dire che tu hai visto la partita della Roma ieri Ho visto la partita della Roma, ma non ho visto quella del Milan Hai fatto bene, guarda Ti sei persa uno spettacolo Ma è andata bene Fede Ti sei persa veramente poco Ti sei persa però il grandissimo uomo forte che allena lo Slavia Praga Eh già Lo chiamo così perché non voglio chiamarlo col suo nome perché è troppo difficile Esatto, perché non te lo ricordi No, 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 è veramente troppo difficile da ricordarselo Ok, però è molto interessante Cioè, ci sono delle cose strane che succedono nella storia del calcio E una di queste è lo Slavia Praga che arriva a San Siro e si trasforma O comunque arriva a giocare con l'italiana perché con la Roma ai gironi ha perso all'andata Ma ha vinto anche bene al ritorno E anche con l'Inter Cioè, noi purtroppo ci ricordiamo Anzi, se non ricordo male ero pure allo stadio in quella nefasta partita Eh, vabbè, nefasta va bene Però mi sembra un po' esagerato prendere e sbattere le cose in giro Grazie a quel pareggio erano usciti dai gironi Eh, dovresti esserne contenta Almeno noi ci eravamo arrivati ai gironi a differenza della tua Juve Grazie, possiamo non parlare della Juve oggi? No, ma in realtà ne parlerei molto volentieri Ma non so Io no, tanto, vabbè Ne parleremo, ne parleremo Tanto non l'ho vista la partita Ah, ok Ho preferito andare a cena fuori Hai fatto un'ottima scelta Ma, vabbè, però diccelo te in realtà noi di che cosa dobbiamo parlare Cioè, orientaci un attimo Da che cosa partiamo, secondo te? Partiamo da ieri sera Partiamo da ieri sera Dalle Coppe Europee Parlate un po' della Roma Del Milan Di quello che è successo Agli ordini Della Champions Agli ordini Partiamo dall'Europa League Dai, andiamo a ritrosi in ordine temporale Poi sicuramente avremo modo anche di parlare di quanto è successo in Champions Con la Lazio Che è poco sorprendentemente uscita contro il Bayern Ma partiamo dal Milan Visto che hai citato Parlavamo anche dello Slavia Praga E Concentriamoci magari sulla prestazione dei rossoneri I rossoneri che comunque hanno vinto Una partita che si è rivelata più combattuta del previsto Non so, Fede Sì, non me l'aspettavo assolutamente Però per come poi è andata la partita Dico che abbiamo anche rischiato Ed è stata una manna dal cielo quasi L'espulsione dei giocatori dello Slavia Cioè, veramente in diretta Ho detto, vabbè, questo mi sembra un po' esagerato come rosso Però in effetti Poi riguardando il replay Anzi l'arbitro è stato molto bravo E mi aveva sorpreso Dopo due minuti aveva munito Florencio E ho detto, vabbè, ha dato il classico rosso Perché è un po' troppo fiscale Però in effetti piede a martello sulla caviglia Poteva essere pericolosa Esatto Certo che il protagonista è sempre lui È sempre lui Nel senso E il prende il calce è sempre lui Il posto del segno è sempre lui Però sì, sicuramente È un'espulsione che ha determinato Un po' la partita Se non fosse stato espulso E ne a te cosa ne pensi? Avrebbe comunque vinto così il Milan? Non lo so Secondo me no, eh Eh sì, perché Effettivamente il Milan ha rischiato Ha fatto un po' fatica Magari peccato forse Soprattutto inizio del secondo tempo Chi da te poi fede Che ne sai sicuramente più di me Ha peccato forse un po' di superbia Di supponenza Forse pensava Che sarebbe stato più facile del previsto Allora Io non ho sotto mano la statistica Provo ad usare la mia mente Come fa quel demone di Giuseppe Pastore E io credo che il Milan abbia un problema Quando si ritrova in una situazione di superiorità numerica Che è una roba folle Io mi accorgo che sto dicendo una cosa senza senso Però quando il Milan si ritrova 11 contro 10 Fa ancora più fatica ad esprimere il suo calcio Cioè la sua idea di gioco Non riesco a capire perché Forse perché le squadre si chiudono ancora di più Però la prima partita che mi viene in mente È contro il Torino l'anno scorso In Coppa Italia Dove il Milan si ritrova 11 contro 10 Dal sessantesimo o settantesimo E poi va a perdere supplementari Anche contro la Lazio venerdì Poi magari ne accenneremo qualcosa Il Milan anche in 11 contro 10 ha rischiato Anche 11 contro 9 ha rischiato di prendere gol E anche 11 contro 8 Meno male che ha giocato poco Perché forse la Lazio avrebbe avuto qualche occasione Quindi non so se per il tipo di gioco Magari anche stacchi mentalmente Perché diceva beh tanto sono uno in più Contro lo Slavia Praga Che secondo me c'è una concezione sbagliata Cioè lo Slavia Praga È una squadra che comunque ha attitudine e esperienza europea È una squadra che negli ultimi anni Comunque si è sempre vista Ai Gironi da una parte Ai sedicesimi C'è da dire però che se hai il Milan Giochi in casa Devi approcciare meglio la partita E devi chiederla meglio Non puoi rischiare così tanto Non puoi rischiare così tanto La cosa che mi ha sorpreso è che poi l'allenatore Giustamente dello Slavia Praga in conferenza Ha detto io non ho dubbi Giovedì prossimo in casa nostra vince a noi E non sarei sorpreso Cioè per come è andata ieri Non sarei sorpreso di un risultato del genere E anche per come è andata contro il Rennes Perché ricordiamoci che il Milan ha vinto all'andata E poi ha perso Ha vinto bene all'andata E ha perso male al ritorno E meno male che ha vinto bene all'andata Ora all'andata qua contro lo Slavia Praga Ha vinto Non ha vinto benissimo Perché comunque è una vittoria Però è una vittoria per 2-0 alla fine Perché 4-2 con due gol di vantaggio Non c'è il discorso delle reti in trasferta quest'anno Come l'anno scorso E quindi alla fine parti da un 2-0 È un risultato importante in casa Contro un avversario comunque Alla portata del Milan Però visti i precedenti Visti i playoff contro il Rennes Dove si è perso il ritorno Bisogna fare molta attenzione Molta molta attenzione Perché onestamente credo che il Milan Rischia di buttare via Un'opportunità importante Anche perché poi Certo il Liverpool ha vinto Però già il Bayern Leverkusen ha rischiato davvero parecchio ieri Quindi è un attimo Poi dopo che magari una viene eliminata O poi magari vengono risorteggiate i quarti E ce le hai tutte quelle forti Dall'altra parte del tabellone Io credo che Il Milan deve sfruttare questa opportunità Che gli è stata data Della Europa League E non vederla come un peso La mia impressione è quella Che venga vista forse ancora troppo Come un peso Quando secondo me Non lo deve essere Perché secondo me Il Milan può arrivare fino in fondo Sono abbastanza convinto di questa cosa E secondo me anche la Roma Può arrivare in fondo Io Non so se Forse non era la puntata con te Forse quando è stato Scelto De Rossi come sostituto Io la prima cosa che ho detto È stata proprio Secondo me De Rossi Anche se si era visto ancora molto poco Aveva tutte le carte in regola Per fare bene Con i giallorossi Con i giallorossi Onestamente anche io Non pensavo così bene Sì Però Però è sicuramente interessante Adesso vedere Fin dove può arrivare questa Roma Perché è una Roma che Se non sbaglio A parte l'Inter Ha avuto tutte vittorie Forse un pareggio E anche con l'Inter Non dico che aveva rischiato di vincere Però comunque si è ritrovata in vantaggio Primo tempo ho giocato bene Assolutamente È davvero l'unica squadra Che è riuscita a mettere In difficoltà i Nerazzurri In questo inizio di 2024 Anzi Io ne parlavo proprio l'altro giorno Io ho detto Meno male che l'abbiamo incontrata All'inizio Del percorso di De Rossi Perché secondo me Secondo me è davvero Un ottimo allenatore E nella seconda Verrà Verrà riconfermato Allora io Lo dicevo anche L'ultima volta che sono venuto qui Secondo me la Roma È una possibile candidata Per la vittoria finale Di questa Europa League E De Rossi sta facendo bene Ha riportato tanto entusiasmo Nella squadra E noto anche Che i giocatori sono più coinvolti Cioè tutti si sentono più protagonisti Cioè mi viene in mente Selic Che da un momento all'altro È diventato Cafu è diventato Sì sì davvero Ieri un trattore sulla fascia destra Ha corso in interrottamento Per più di 90 minuti E ha fatto bene Si rivede Paredes Quel Paredes Che si era visto Come protagonista Alla Roma Durante la sua prima esperienza Quindi Diciamo Quell'area di cambiamento L'ha portata E si può dire Che sta facendo Nonostante comunque Il periodo sia breve Però sta facendo Effettivamente meglio di Mourinho La Roma finalmente Gioca a calcio Palleggia E Entusiasma secondo me Quindi la riconferma Ci può essere E non solo secondo me Nella proposta di calcio È cambiata Ma anche nell'atteggiamento In campo È una Roma molto meno letigiosa Molto meno Aggressiva Ma è quella Quell'aggressività gratuita Che non serve a niente Che non porta a niente Quando La mia impressione Che La cattiveria Che può portare De Rossi Come atteggiamento Viene incanalata Nella maniera giusta Cioè la mia impressione Perlomeno è questa Perché Perché non è più Una squadra Che si lamenta Per ogni fallo Che si mette a litigare Con gli avversari A prendere così Perfino Mancini Sembra una persona normale Però Saluto al grande Gianluca Mancini Che Se avesse visto Questa tazzina qua Come l'ho vista io Sul bordo del tavolo L'ha presa Lanciata contro un avversario Non l'ha fatto Fortunatamente non è qua Però Un altro nome È Lollo Pelle Lollo Pelle Che può diventare Molto utile Anche per l'Italia Agli europei Assolutamente Anche perché Forse L'ultimo Pellegrini Ha fatto in tempo A farsi allenare Da Spalletti Adesso c'è un dubbio Amletico Probabilmente Sto dicendo Una baggianata Forse no È arrivato l'anno dopo Anche secondo me Sì Perché mi sa Che è arrivato l'anno Di Francesco Può darsi Sì Può darsi Perché Quando si è Ritirato Totti C'era Spalletti De Rossi Si è ritirato l'anno dopo Ha fatto in tempo A giocare Pellegrini Era la Sassuola Sì Sì Può darsi Può darsi Noi per correttezza Non diciamo bagianate Però A prescindere da questo Sono convinto che Così come con De Rossi Anche con Spalletti Credo che possa Possa fare bene Un altro che Mi sembra strano Che queste parole Scano dalla mia bocca Però un altro giocatore Che mi sta piacendo E che sta trovando Una continuità Che forse Non aveva mai davvero Avuto in carriera Adesso vi sorprenderete Che non mi sto per dire E Sharawi Lukaku Ti pare che va Per quello Mi stavo sorprendendo Per quello Però è Sharawi E Sharawi Anche lui Secondo me Sta facendo Che in ottica europeo Può diventare anche molto utile Sulla fascia Manca un po' Quella alla sinistra Beh si è fatto anche Male Berardi Quindi c'è in generale Le ali servono Io sono curioso di vedere Poi adesso ci saranno Le settimane prossime Parleremo anche Delle convocazioni Per la turnia americana Di fine marzo Poi ci saranno Le convocazioni vere e proprie Arriveranno poi Faremo magari Il totto convocazioni Perché Sono tanti nomi C'è il grande Assente Berardi Quindi bisognerà capire Chi arriverà a suo posto Io ve lo dico subito Un nome Secondo me Russolini È tra i candidati principali Insieme a Politano Poi magari entrambi Non lo so Quello che so Sicuramente Che questa Roma Mi sta Mi sta Entusiasmando Comunque Sì c'era C'era Lollopelle Lollopelle Non l'ha fatto in tempo 17-18 si è trasferito La Roma quindi Ha fatto in tempo Quindi No è vero 17-18 c'era già Di Francesco Sì Totti si è ritirato Il 2017 Prima di passare Al prossimo tema Vi voglio raccontare Questo aneddoto della vita 2017 Io vivevo a Barcellona E quando si vive All'estero Poi ero In un ambiente universitario C'erano tanti italiani Che vivevano E studiavano lì con me Ti senti quasi più italiano Quando sei all'estero E il 2017 Ci ritroviamo tutti A casa Di uno di noi Tutti gli italiani Per guardare L'addio al calcio Di Francesco Totti Ed è stato un momento Davvero Io pur Non da tifoso romanista Però essere lì Tutti insieme Eravamo Ragazzi Ragazzi Chi più appassionato Al calcio Chi meno Ma quell'addio di Totti È stato proprio Ci ha emozionato Non mi vergogno a dire Che mi è caduta Qualche Qualche lacrimuccia Sì 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 È stato proprio un momento Di italianità Proprio pura E E genuina Bene Scusate Scusate Ho avuto un momento Non ce la faccio Troppi ricordi Non ce la faccio Detto ciò Prima parlavi Dell'aggressività Della Roma Secondo me Cioè Ieri è uscito anche il video Di De Rossi Che per esempio picchia Silvagiamente Zaleschi Prima di farlo entrare Però è c'è Quell'esuberanza Che non viene vista Come una minaccia O come Ah no Adesso devo entrare E far male a qualcuno No Devo entrare e spaccare tutto Nel senso buono Cioè Secondo me De Rossi È stato bravo a dar quello E poi abbiamo sempre detto Che i giocatori Devono avere degli stimoli Perché sono professionisti Sono Giocano a calcio Da quando hanno sei anni Quindi vivono di calcio Tutto Però devono avere degli stimoli Cosa che il mio amico Stregone da Parma Non sta Cioè Tornando al discorso Prima Secondo me Uno dei problemi principali Della partita di ieri sera Che tra l'altro Una roba assurda È stata anche ammessa Da Pioli In conferenza stampa Mi sono salvato Cioè Ho fatto proprio dello screen A quello che ha detto Perché Non mi sembrava Vero Cioè Sul secondo gol Preso dal Milan Fa Eh no La linea La decide I giocatori Hanno deciso Che così Che si difene così Scusi Tu sei l'allenatore Cioè Se i giocatori Decidono Deve esserci qualcuno Che decide per loro Perché non possono essere Così tanto autonomi Cioè Ok Lasciare libertà Di idee Però Tu devi dargli Le idee di base Perché se no Perché se no Si va Può avere davanti Anche Maldini e Baresi Però Esatto Cioè Quindi Boh Non La fase difensiva Un po' un problema Ma se tu la fidi Ai giocatori Così come la fase offensiva Cioè Poi mi parla anche Di ampiezza sulle fasce Che non è stata trovata Ma se tu giochi Con i terzini In mezzo al campo È ovvio che l'ampiezza Non riesce a trovarla Certo Quello è Secondo me È proprio in confusione totale Non so perché Non so se perché Si sente tanto Sulla graticola O cosa Però È onestamente Una situazione Che fa male a tutti Ci fa male a Pioli Perché non ci fa Una bella figura Fa male ai giocatori Perché Stanno perdendo Un'occasione di crescita Perché subitamente Stanno perdendo dei mesi Fa male alla società Perché Cioè Anche la gestione La gestione Cucuese Tanti Giustamente dicono Ma perché vai a prendere Un allenatore Che ti costa 12-13 milioni in anno Però se tu Prendi Cucuese Lo paghi 25 milioni E lo fai Sistematicamente Stare in panchina Cioè Ieri in una partita Che comunque Stavi controllando Non ha giocato Mezzo minuto Ed è A memoria La terza partita consecutiva Che fa Senza entrare in campo Cioè Capisco che magari Non è in forma Non ti può Non ti dà le stesse cose Che ti dà Pulisic Però se non lo provi mai Però secondo me è uno Che comunque si può accendere Al momento all'altro C'ha quell'esplosibilità Infatti Era la partita giusta La roba assurda È quella Cioè È un pippeiro Ma proprio conclamato Cioè Mi dici il classico L'altra volta L'altra volta che abbiamo fatto I pipponi Della Serie A Il paletta di turno Nel Milan di adesso Non gioca neanche per sbaglio Cioè preferisco Far giocare uno Dell'Under 15 Però C'è Ciocuese Se il Milan è un Europa League Lo deve a Ciocuese Perché al novantesimo A Newcastle Ciocuese ha segnato E quindi ha mandato Il Milan in Europa League Poi che non sia la Champions Lo sappiamo tutti Lo sanno anche i calciatori L'ha anche detto Adeli prima della partita Però è anche vero Che Cioè Manca proprio lo stimolo Ma in campionato In Europa League Cioè È quello che mi preoccupa Di più Più delle prestazioni in campo Quello sono solo riflessi Sì Tu hai detto giustamente Mancano gli stimoli È un discorso di stimoli È importante da farlo Perché C'è una grande differenza Fra il cercare gli stimoli E il cercare gli alibi Ok Torniamo un secondo Al volo sulla Roma Perché È un discorso Che ha senso anche Per De Rossi Perché tu L'hai detto anche te Giustamente prima Fede Gli stimoli che è riuscito A dare E a ritrovare De Rossi Perché erano degli stimoli Che c'erano Sì Perché la Roma L'anno scorso Ha fatto Una finale Di Europa League Dove Meritava di vincere E mitava di vincere L'ha persa Però è stato L'errore di Mourinho Principale Secondo me Ed è l'errore Del Mourinho Degli ultimi anni In generale È quello di continuare A cercare alibi Scusi 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 Che non era Il Mourinho Di dieci anni fa Tu Enea Da interista Lo sai come me Non era il Mourinho Di dieci anni fa E questa è stata La grande differenza Perché l'Inter Dell'anno scorso Ha perso In finale di Champions Anche loro Probabilmente Quasi meritando Perlomeno Meritandosi Il pareggio Di andarselo a giocare Almeno i supplementari E l'Inter Non ha trovato scuse Sulla finale Sì Il Lukaku Il rimpallo Così Ma non ha trovato scuse Ha trovato stimoli Tantissimi stimoli Stimoli che li hanno portati A vincere Tutte le partite Che hanno vinto E ad essere A più 16 Più 15 Sulla seconda Ed ecco Io sono dell'idea Che se la Roma Avesse trovato Avesse avuto Gli stessi stimoli A inizio stagione Al posto che Trovarli solo adesso Probabilmente Sarebbe lì in alto Con l'Inter Ma perché io mi ricordo Anche io stesso A settembre Che dissi Che secondo me La Roma Poteva giocarsela Con gli 11 titolari Per me Non ha nulla Da invidiare Alle altre E lo sta dimostrando adesso Perché adesso Le sta vincendo tutte E avrebbe potuto Magari non vincerle tutte Ma vincerne tante di più Nel girone d'andata Con gli stimoli giusti Quindi è un discorso Che poi si gira Anche sul Milan Perché il Milan Cioè quante volte Pioli tira fuori Scuse su scuse Su scuse Arrivati a questo punto Secondo me Pioli dovrebbe fare Solo una cosa Tapparsi la bocca E lavorare Perché sta parlando Più di quello Che sta facendo Esatto Che poi c'è nel senso Purtroppo per fortuna L'allenatore deve parlare Prima della partita Dopo la partita Così Quindi Cioè Devi andare davanti ai giornalisti Anche dire Qualcosa Però La differenza è Tra Murigno di dieci anni fa E Murigno di adesso Cioè Murigno di dieci anni fa In conferenza stampa Ti diceva Quella cosa Per fare clamore Però poi Non ero nello spedetto Io ma mi immagino E a detta di tutti Di tutti i calciatori Che ha allenato In spedetto Io si comportava In una maniera diversa Cioè Abilità sta anche in quello Cioè io posso andare in conferenza E dire No è colpa I noemi È colpa dei microfoni Così Invece entrare in elemento Oh Cioè No scuse esterne È buona Invece Secondo me Anche per l'atteggiamento Che trasmetteva i giocatori Era quello Sempre colpa dell'arbitro Colpa del campo Colpa dell'avversario Cioè Non esiste Non era mai colpa sua È quello Cioè se uno Non riesce mai Ad ammettere Il fatto che sia colpa sua E non si va da nessuna parte E poi quella mentalità La diffondi Negativamente Anche al resto Esatto Proprio questo Cioè poi Come scendeva la Roma in campo Nervosissima Ogni occasione Era buona per litigare Perché non capivi Di essere te Che dovevi migliorare Come calciatore Ma erano gli altri Essere sbagliati Quindi no È un discorso davvero Molto molto importante Che Bisogna sottolinearlo Perché poi C'è la dimostrazione Che Che si può E si deve lavorare meglio De Rossi Nella conferma Testa bassa Lavorare E i risultati arrivano Non ci vuole Cioè il calcio Nella sua complessità È molto semplice Noemi Aiutaci a orientarci un po' Abbiamo ancora Una mezz'oretta Allora No parliamo più di coppe Parliamo del campionato Della scorsa giornata Vai Direi di Andare in ordine cronologico Quindi partiamo dal venerdì Con Lazio-Milan Che è stata una partita Davvero assurda Non l'ho vista Però l'ho seguita un po' Dal telefono E poi arriviamo a lunedì Con la partita dell'Inter Quindi Prego Ah sì Io Volevo chiederti Volevo chiederti un parere Che parere Dai chiedimi Che parere vuoi chiedermi No 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 Nel senso Che poi dopo Possiamo magari Anche visto che parliamo Della Lazio Al volo ricollegarci Sulla Champions Perché sulla Champions Anche potremmo dire due robe Ma ce lo teniamo per la fine Lazio-Milan E no perché Poi è stata venerdì Effettivamente Poi ci stavo anche pensando L'altro giorno Ho detto Quando è che si è giocata Lazio-Milan Venerdì Quindi comunque dopo L'ultima puntata Di Calcio Caldo Qualche ora dopo Qualche ora dopo E noi ancora non sapevamo Prima della puntata Che cosa sarebbe successo Da lì a poche ore L'apoteore Il melodramma Sarebbe tipo da fare Tre ore prima del disastro Esatto Quei tagli così Però perlomeno Adesso si sentiranno Cioè non è più Marotta League È Cardinale League Ma dai Ma dai No dai A parte A parte gli scherzi È vergognosa Andrea vergogna Ma togliete Ma per favore Noemi Abbassa il microfono Ma Qua e farlo Ah è vero Scusa Prima che andiamo avanti Completo off topic Così Dobbiamo fare una cosa Cosa Fare gli auguri A Barbara e Noemi Ah è vero Eh ragazzi Tanti auguri 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 di buon compleanno Ah no Non era Non era Onomastico Onomastico Stavolta Mi sono svegliata Con un messaggio d'auguri Alle 8 del mattinetto Della Vodafone Che giorno è Sì auguri Che giorno è Perché dopo collegato Ah ok Ma in realtà Noi gli auguri Glieli faremo anche domani E anche dopo domani Perché Bravo Andrea Perché Sempre Io secondo questa mentalità Non li ho fatti a nessuno Meno mimose Più rispetto Brava Noemi Infatti vedi le mimose No Vedi il rispetto No No Noi ci proviamo Almeno siamo coerenti Non faccia niente Si scherza logicamente Noi le rispettiamo A meno che non siano Juventine Lì ragazzi Non c'entra niente Il sesso Noi rispettiamo loro Ma non le loro idee calcistiche Esatto La loro fede calcistica E noi non puoi chiedere Noi non posso parlare No noi ti rispettiamo Come persona Non rispettiamo Il fatto che tu sei Juventino Eh dai Quello è un altro discorso Però ti vogliamo bene Lo stesso Grazie Meno male Però Dai si scherza Piccolo intermezzo musicale Finito Torniamo a Torniamo alle cose serie Io una cosa Ci tengo a dire Poi mi ecclisso Per chi non lo sapesse Cosa è successo In Milan-Lazio Venerdì scorso Ci sono state Varie polemiche Relative Sponda-Lazio Sponda-Lazio Relative a varie scelte Arbitrali dell'arbitro Di Bello In seguito alle quali Poi lui è stato anche Sospeso per un mese Come già successo Per Juventus-Bologna Inizio stagione Il famoso fallo Di Ling Junior Non fischiato Quindi Anche lì Vabbè Io sono dell'idea Che È facile qua Ricadere Io l'ho fatto apposta Nel ricadere Nelle polemiche Ah Marotta-Legue Cardinale-Legue Così è Qua c'è un discorso Secondo me è molto più serio Da fare Il discorso Di una classe arbitrale Che quest'anno Sta facendo Troppi errori Perché quest'anno Molto di più Secondo me La mia impressione Rispetto agli altri anni Errori Gravi e decisivi Esprimere la mia Devi 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 No prima parte Andr alle teorie del complotto Vai Tutte quelle che hai Secondo me Visto che Quest'anno È stato introdotto Sulla principale emittente Che trasmette Il campionato di Serie A Da Zono Quindi No se si possa Un parlo inizio Da Zono Visto che è stato introdotto Un programma Che si chiama Apertamente Open VAR Dove si Si crea una discussione Si analizzano Gli episodi arbitrali Più importanti Della giornata precedente La mia teoria del complotto È che lo fanno apposta Per avere motivo Di discussione Materiale Di cui parlare È una bella teoria La realtà Secondo me È che La maggior parte Degli arbitri Di questa generazione Di arbitri È molto più indietro A livello tecnico Rispetto alla generazione Precedente Di arbitri Cioè A livello medio E poi Secondo me C'è anche Molta più attenzione Su ogni singolo errore Cioè Secondo me Il VAR È uno strumento Molto utile Ma allo stesso tempo Molto pericoloso Perché Se ogni azione È rivisitabile Al VAR Il replay Il fermo immagine Cambia ogni volta La percezione Di un contatto Soprattutto di quelli più Esatto A metà Io faccio l'esempio Di ieri Tornando L'esempio Dell'espulsione Del giocatore Dozzavia Praga A me In presa diretta Non sembrava mai Fallo da rosso Però Vedi il replay E sembra rosso Se tu fai il fermo Immagini Del piede a martello Sulla caviglia Lì Dell'ergastolo Perché così Se tu guardi solo Il fermo immagini Dici ok Questo è un omicidio colposo Se guardi poi il replay Capisci che c'è una dinamica diversa Lui comunque voleva giocare Il pallone La stessa situazione Poi è rosso Sì La stessa situazione È successa nel secondo tempo Con Kier Tra l'altro Punizione da cui nasce Il 3-2 Dello Slavia Praga Quello di Kier Non è mai fallo Perché Kier Va sempre Con lo stesso tipo Di piede a martello Ma prende Prima la palla Palla 1-2 Prende l'avversario Che è la stessa situazione Di Mignan Mignan esce Per prendere la palla Tocca la palla E dopo 3 secondi Prende Castellanos Lì Mignan Non può smaterializzarsi E cioè Che è la stessa situazione Di Barella Guarda È veramente Vogliamo fare un altro esempio È la stessa Situazione Di Sommer Su Nzola No Aspetta Ti dico la cosa Secondo me no Perché Sommer Su Nzola È molto più simile A Mignan Contro il Genoa Nel senso che Il tempo tra L'impatto col pallone E l'impatto col giocatore È molto ridotto Cioè veramente Mignan Continua a scivolare Per altri 6 metri E poi prende Castellanos Cioè quindi nel senso Poi Secondo me È la situazione in cui Se dai rigore Mi arrabbio Però capisco Perché comunque Il contatto c'è Però è anche vero Che se il portiere Non può uscire In presa bassa E prendere il pallone È come un portiere Che esce in presa bassa Prende il pallone E poi prende anche l'attaccante Se però prende il pallone Non è mai fallo Quindi nel senso Però è quello Cioè dobbiamo stare attenti Col VAR Perché ogni fermo immagine Potenzialmente È rigore Rosso È quello che vogliamo L'uso è importante L'abuso No E poi Non so Nel Lo chiedo anche a te Perché Noi ne abbiamo parlato Tanto così E c'è anche Secondo me Un atteggiamento Degli arbitri Oltre al A livello generale Che anche Sono d'accordo Che si sia abbassato Nel corso degli anni E che L'attuale Responsabile Dell'AIA Non so Il nuovo disegnatore Che è Rocchi Non stia facendo le scelte giuste Perché comunque Milan-Lazio Era una partita Importantissima Per la stagione Perché Poteva riportare La Lazio in corsa Poteva Riavvicinare Il Milan Al treno Per le squadre Che stanno cercando Di entrare in Champions Quindi una delle partite Più importanti Di queste ultime dieci giornate E non puoi assegnarla A un arbitro Che nella stessa stagione Posso capire Ancora ancora Che nella stagione precedente Ma nella stessa stagione È stato Fermato un mese In una partita In cui ha commesso Un errore Fra la seconda E la quarta Della classe Non esiste Cioè è come se Tu hai una Quanti sono gli arbitri? 20? 25? Saranno una cinquantina Eh sì Tra serie A e serie B Arbitri Guardalini Quarto uomo Var West Saranno una cinquantina Anche di più Prendi solo gli arbitri Solo gli arbitri Saranno un 20-25 Fra serie A e serie B Che si alternano Sono dieci partite di A E dieci partite di B Io non ci voglio credere Che Come se fosse Una formazione di arbitri Uno che Nella stessa stagione Ha fatto un errore decisivo Ne hai 20 a disposizione Che puoi mettere al suo posto Io non capisco Il calcolo dei punteggi Perché loro hanno Tutta una loro statistica Così è Dovremmo invitare Un arbitro Per spiegarci Alla perfezione Marelli Marelli Eh sì Però Io non capisco Com'è possibile Secondo me E poi c'è questo Atteggiamento Di Quasi supponenza Di quasi dire Io sono meglio del VAR Io non ho bisogno Del VAR Secondo me C'è questo problema Dell'uso improprio C'è appunto L'arbitro che Crede Di aver ragione Sul campo Sulla base di quello Che ha visto E quindi non Non fa neanche Riferimento al VAR Io Cioè Seguo molto Sono molto appassionato Della Premier League E noto anche come il VAR Abbia un po' rovinato Anche lì Il gioco in generale Nel senso Che poi là Si interrompe molto Molto di più E con pause Molto lunghe E prima si interrompeva Molto meno Sì E quindi si perde Anche quello spettacolo Però noto anche lì Molti più errori Pensiamo a Taylor Che quest'anno L'anno scorso Ne ha combinati Non so quante Ed è uno dei migliori Ed è uno reputato Uno dei migliori Quindi Ci ha cambiato un po' Tutto il sistema E ricongiungendomi A quello che dicevate prima Secondo me Ci fa fatica A trovare Quell'arbitro buono Effettivamente Da assegnare Ad una partita Così importante Come è stata Milan-Lazio Magari Orsato è quello Che vedo Che sbaglia meno Che riesce proprio A prendere in mano La situazione Kifi non arbitra Il Milan Sapete l'ultima partita Arbitrata da Kifi Del Milan Milan-Inter 3-2 Primo settembre 2023 O Primi di settembre L'ultimo derby Vinto dal Milan È stato arbitrato Da Kifi Ed è l'ultima partita Arbitrata da Kifi Del Milan Sono passate 50 partite In una rosa Da 50 persone Anche per le probabilità Non può C'è È una roba folle Secondo me ci sono Due arbitri Cioè personalmente Da quello che ho notato Così due arbitri Che Che secondo me sono Uno è decente L'altro secondo me In prospettiva Può diventare Davvero davvero bravo Uno è Doveri A me piace Doveri Bell'atteggiamento E l'altro che secondo me È l'unico davvero di livello È Sozza Quello di Seregno Giusto Sozza Secondo me lui È una spazia Soprattutto gli altri E mi auguro Che continui su questa strada Che ne escano altri Che seguono L'esempio A personalità In campo Non ha paura Di prendere la decisione Molta Un bel atteggiamento Sempre Anche con i giocatori Si sa far rispettare Secondo me Tant'è che l'hanno messo Ad arbitrare Se non sbaglio L'ultimo derby L'arbitrato Sozza Non vorrei sbagliare È anche stato Tanto tempo fa Quindi Mi ricordo Che c'era La polemica Perché c'era L'arbitro Di Seregno Milanese Non lo so Era un discorso Sicuramente Arbitrato L'Inter Non lo ricordo Perché Lui è di Milano Cioè Lui fa parte Della sezione di Seregno Ma è di Milano O di Monza Comunque È di queste zone È di Seregno Ah sì sì Non so se è esattamente Di Seregno Però sì In ogni caso Per non soffermarci Troppo sugli arbitri Però ecco Diciamo che Alla fine Noi finiamo a parlarne Spesso Anche perché Succedono Tutte le settimane Quasi Episodio da commentare Eh sì E dispiace Perché poi a me Piacerebbe Parlare un po' di più Del calcio giocato Perché comunque Il Milan Sta trovando Continuità di risultati Anche in In campionato Ha ritrovato Questa vittoria Che poi alla fine È molto importante Stasera si torna Subito a giocare Tra l'altro Col campionato Con il Napoli Che arriva Da una vittoria Molto molto importante Lo scorso weekend C'è la vittoria Eh Anche dell'Inter Di cui abbiamo accennato Contro Contro Genua Con annesse polemiche Sozza comunque Oh scusate Ho toccato dentro il cavo L'errore mio Però ecco Scegliamo Una partita Di cui parlare Parliamo di un po' di Juve Del prossimo Del prossimo turno No no Di Napoli Un attimo Sullo scorso Campionato Cioè Sullo scorso turno Esatto Perché è stato Abbiamo parlato Del Milan È stata una vittoria Fondamentale Secondo me è stata Fondamentale anche La vittoria del Bologna Che ha staccato L'Atalanta E ha un po' Creato un mini Ciclo Negativo Dell'Atalanta Che adesso Affronterà la Juve E quindi Vediamo Cosa potrà fare Perché se l'Atalanta Dovesse Non vincere Anche contro la Juve Inizia a perdere Un po' Il contatto Con Bologna E Milan Tant'è che adesso L'Atalanta è sesta Addirittura È stata superata La Roma Quindi deve stare attenta Perché Posto che Secondo me Visto i risultati Delle coppie L'Italia alla fine Avrà il quinto slot Tra l'altro Mi sembra che Se Napoli No Se la Roma Dovesse eliminare Il Brighton Avremmo staccato Completamente L'Inghilterra Quindi Assicurandoci Il quinto posto E per l'Atalanta Diventa fondamentale Vincere contro la Juve Juve che Ha perso contro il Napoli E quindi Anche lì Momento difficile Quindi Tutti questi intrecci C'è avere tante squadre vicine Vuol dire che In ogni turno C'è uno scontro Direttore Lo stesso Bologna Gioca con l'Inter Esatto Spide Valle importanti La Lazio E il Napoli Nel giro di poche settimane C'è quindi L'Atalanta Anche quindi No sì Volevo soffermarmi un attimo Sulla Atalanta Perché Proprio Lo scorso sabato Tra l'altro Ero ospite Dall'uomo che c'è lì dietro Il dottor Nicolo Gelao Che Mi ha aspettato a calcissimo E abbiamo parlato E tu diceva No no L'Atalanta è già in Champions E ho detto Ragazzi L'Atalanta ha già giocato con Milan E con l'Inter Nel giro di una settimana Poi per l'Inter È stato il Il recupero E adesso ha Appunto Recupero il calendario La Juventus La prossima giornata Poi avrà la Fiorentina Il turno successivo E poi Dove è l'Atalanta E poi avrà il Napoli Ok Dopo il Napoli Poi avrà il Cagliari In casa Che deve salvarsi L'Atalanta ha un girone Molto molto complicato E Quindi ho detto Vediamo Dopo tutte queste giornate Dove sarà l'Atalanta Perché la Roma Corre come una matta Il Il Bologna Sta facendo vittorie Su vittorie La In Napoli È in risalita Perché Poi questa vittoria Contro la Juve Darà morale Io non sono così convinto E mi dispiacerebbe Però In tutto ciò Abbiamo parlato Malissimo l'Atalanta Però secondo me Contro lo Sporting Lisbona E proprio lì voleva arrivare Vrebbe meritato molto di più Infatti secondo me È un momento Difficile Cioè Mancano forse Un po' di certezze Un po' di fiducia Perché l'Atalanta Giovedì Cioè mercoledì È stata un po' sprecona L'Epali ok Però ha buttato via Occasioni importanti E lì con uno Sporting Che comunque era partito bene Sia all'inizio del primo tempo Che il secondo tempo Secondo me La vittoria Era da portare a casa Quindi torna un po' Con l'amore in bocca A Bergamo E con un po' di impianti Certo E questo può Giocare un po' sul morale Perché ci sono C'è la sfida con la Juve Adesso domenica Tante sfide importanti In zona Europa Alla fine sono tutte lì Cioè Dalla Lazio a 40 Sono Assolutamente Perché poi la Lazio a 40 Poi c'è Fiorentina a 42 Napoli a 43 Atalanta a 46 Roma a 47 Bologna a 51 Cioè Bologna Ha creato Un piccolo divario Un piccolo divario Di una vittoria e mezza La classica partita Di vantaggio Eh sì Che però Non è da Che poi Il prossimo turno Giochi con l'Inter Cioè domani Alle ore 18 Giocherà con l'Inter Ma L'Inter E quindi della bruci Perché figurati Se l'Inter perde Contro il Bologna E io invece Credo proprio Che il Bologna Domani Possa tranquillamente Vincere O comunque portare a casa Magari almeno un punto L'Inter non vince L'Inter non ha ancora vinto Quest'anno L'Inter non ha ancora È l'unica squadra Insieme al suo suolo E nelle ultime due trasferte A Bologna Ha sempre perso L'ultima ha fatto 3-0 Mi sembra Ha fatto fatica L'ultima l'anno scorso A Bologna L'anno scorso aveva perso 1-0 Con un gol di Orsolini Me lo ricordo Allora l'ho sbagliato io Però aveva fatto molta fatica E due anni fa Come dimenticarsi Il famoso asterisco Il famoso asterisco Però ecco L'Inter ha l'Atletico Mercoledì Un ritorno importante Ha alcuni giocatori Che non sono ancora Top della condizione Quindi è normale Che farà riposare Qualcuno in più E il Bologna Gioca in casa Tra l'altro E io credo Che ne approfitterà Non è Non sarebbe una strage Per l'Inter Certo Non puoi vincere Lo scudetto contro il Milan E vabbè Dai Lo vincerai la giornata dopo Magari non glielo puoi Più far vincere Matematicamente al Milan Vabbè Questo anche se Ma no Ma dai Anche se dovesse perdere Ascolta Siamo a più 15 A più 16 Dal Milan Nessuno ha mai Nella storia Mai recuperato 16 punti di svantaggio Qualcuno prima o poi Lo dovrebbe fare Ma mani la vita Andre dai Ma scusami Ma te ancora L'avete già recuperata Parlando Parlando Anche Non hai dubbi Sul fatto di vincere Io non parlo Per un semplice motivo Perché sono interista E ne ho viste Ma sì ho capito Essere interisti Ma ne ho viste Cioè Chi metti metti Fa bene Quello è vero Quello è vero Quindi nel senso Cioè hai vinto anche Contro il Genoa Non dico che Non meritavi di vincere Però il Genoa Comunque ti ha messo in difficoltà E hai comunque vinto La squadra ostica La classica partita Che potevi tranquillamente pareggiare Come avevi fatto l'andata Cioè Adesso hai tornato ad essere Un giocatore di calcio Anche a Slani Nel senso Mi sembra veramente No 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 Io qua mi scalpo No 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 Ma qua mi Mi arrabbio No nel senso che Perché questo è un commento Proprio Fuori fase Cioè secondo me A Slani Cioè a parte l'errore In Champions League Sì ma ha mai giocato Quello che sto dicendo io È difficile trovare Cioè con la continuità Anche quando non giochi Cioè con la forza Capito Secondo me Però nelle ultime tre C'erano Che è venuto a mancare Io quasi Non mi sono accorto Che non c'era Ma questo è un grande Mie Cioè non voleva Non voleva essere Un commento negativo No no Ormai sono offesissimo Allora offenditi Però non voleva essere Un commento negativo Cioè voleva essere Proprio Una dimostrazione Di come l'Inter Stia girando bene Anche nel momento In cui potrebbe non girare meno Perché se A Slani avesse fatto Non tutte e tre Le partite bene Ma una bene Due meno bene Non ti saresti Arrabbiato Non è che dici Vabbè comunque Non aveva mai giocato È normale che non sia In condizione Invece entra E fa bene Arnautovic Entra e fa bene Cioè quindi Dove prendi Prendi Caschi bene C'è Carlos Augusto Gioca il 30% Dei minuti Ed è un trattore Sua fascia sinistra Cioè comunque E' un grande merito Dell'Inter Ed è per quello Che ti dico Che secondo me C'è una parte Il gufaggio Cioè se fossimo Più vicini Ti direi Vabbè Sto gufando Però a meno 16 Non vedo come Si possa Si possa recuperare Poi fai Tocca ferro Quanto vuoi Stai cercando una roba Sotto il tavolo Cioè nel senso È così Ma io ti aspetto In Duomo Se vuoi Andiamo in Duomo Facciamo una Un bel carosello Che io ti raggiungo Corcoso Corcoso Sì 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 Però vabbè Dai chiudiamo un attimo Sull'Inter Che poi dopo voglio Anche Abbiamo preparato Una Una chicca Una chicca Un giochino Come piace fare a noi Per il nostro Enea E Vabbè Volevo un attimo Anche Parlare dell'Inter Anche in vista Della Della prossima sfida Di Champions League Perché giocherà Sicuramente domani Col Bologna Una partita importante Dove Torneranno Quasi a pieno regime Tutti C'erano I primi allenamenti In squadra Però sì Abbiamo sottolineato La profondità Ha sottolineato Federico La profondità Sono più interista Di Pioli io Sì sicuramente Più interista Di Pioli Però Chi è che secondo te Manca ancora l'appello Di quelli Della Rosa dell'Inter Chi è che secondo me Secondo te Può dare ancora Qualcosina in più Perché sembra Strano Cercare Però Dobbiamo cercare Qualcosa Da polemizzare Anche su Sennò come fai A dire Crisi Inter Dopo devi avere Una scusa Per dirlo Quando uscirà Dalla Champions A me viene difficile Trovare Quello che manca Magari appunto Come dicevamo Anche l'altra volta Che abbiamo commentato La sfida Andata con l'Atletico C'era Noglu Era stato un attimino Sottotono Come tutto il centrocampo Però appunto Ne parlavamo prima Con la Roma di De Rossi L'Inter Ha questa capacità Secondo me Di essere gruppo Quindi tutti Sono protagonisti Anche chi gioca meno Vedi riesce a fare A fare il suo Cosa che manca Forse al Milan Alla Lazio La cosa che manca Alla Lazio Quella mentalità Quel coinvolgimento Da parte di tutti Quindi non mi sento Di darti Di darti un nome Barella Anche che magari Si era visto un po' meno Nelle ultime settimane Con il Genoa Ha fatto una gran prestazione E anche con l'Atletico Con l'Andata Ottima prestazione In Barella Un 7.5 Sui tuffi Barella La prossima La prossima Tania Cagnotto Sta lasciando Quella spetta Dai per anche L'Andata Con l'Atletico Si è la Si è la Tuffato No 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 E quindi Barella Non ce n'è Barella Soffre di Tant'è che ha Il suo stesso Il morbo Di maglia Soffre di Materazzismo Ok Quel giocatore Il morbo Di Puppenazzo Il famoso Dino Johnny Il divino No però Io capisco I tifosi Delle squadre Avversarie Che si arrabbino Per determinati Atteggiamenti Che se io Vedessi farli A un giocatore Del Milan To ne dico Uno a caso Teo Hernandez Ma uno a caso Che non li fa mai Luno Proprio caso Ogni squadra C'è il suo O lo ami O lo odi Sicuramente Barella Sono contento Che stia entrando Nella sua forma Migliore adesso Perché adesso È il momento Per entrare Nella forma Migliore Vista dell'europeo Anche quindi Sì Vista dell'europeo Ragazzi Cioè L'Inter Farà questa stagione Cioè I giocatori dell'Inter Faranno questa stagione Quasi tutti gli italiani Verranno chiamati europeo E chi non avrà L'europeo Avrà la Coppa America Come Lautaro E compagna bella La stagione rinizierà Molto presto Sarà molto più lunga Con una Champions League Con Due partite in più Perché si passa Dalle 6 alle 8 E oltre alle partite Oltre al campionato Avremo pure Il Mondiale per Club Cioè Perlomeno l'Inter Avrà il Mondiale per Club E all'estate prossima La fine stagione Prossima Estate 2025 Come un Mondiale Classico All'anno Precedente Quindi Ragazzi Io non Non so Come arriveranno Alla fine della prossima stagione E io intanto Mi godo L'attualità Sì sì Poi adesso entri nel club Proprio della stagione Perché ti giochi In Europa Ti giochi tutto Sostanzialmente Esatto esatto Proprio per quello che ad esempio Mi sorprende Il calo della Juventus Adesso Cioè nel senso La Juventus Ha spinto tanto Ma Nell'ultimo Nell'ultimo mese Sono davvero venute meno Gli stimoli Di cui parlavamo prima Le energie Stimoli invece che Aumentano sempre di più Per squadre come la Roma Come l'Inter Che vedono l'obiettivo Sempre più vicino L'importante adesso è Non adagiarsi Troppo Ecco Sebbene a me non piacciono Questi discorsi Del Del fare Vincere lo scudetto Al Contro il Milan Nel derby O battere il record Della Juve E arrivare a fare 105 punti Però Penso che comunque Questi Questa ricerca Del record così Ti riesca a dare Quello stimolo in più Nel derby Perché Col Genoa Magari non vincevi Però dici Vabbè Perché non vincerla Perché non provare a vincerla Che magari battiamo Il record della Juve Perché non provare a vincerle tutte Che poi magari Arrivi col Milan Che perde altri punti E riesci a Sì sì Quella motivazione in più Che ti sprona Esatto esatto Perché comunque Arrivi in campionato Ed è difficile Accetturare gli stimoli Ed è anche per quello Che io ho molta paura Per mercoledì Perché non sarà Una partita semplice Come non lo è stata L'andata Perché l'Inter ha dimostrato Secondo me Di essere superiore Ma l'atletico È una scuola Da non sottovalutare La scuola Secondo me dipende molto Da come è approcciata La partita di domani Perché se comunque A prescindere dal risultato L'Inter approccia bene La partita Allora vuol dire Che l'Inter è sul pezzo E mercoledì Oltre ad avere una scuola Sul pezzo Hai fatto riposare I tuoi giocatori più importanti Che hanno giocato Più minuti E quello può essere Il continuo Poi durante la stagione Cioè È vero che è un obiettivo così Che non ti porta un trofeo Per avere l'obiettivo Anche solo di arrivare a 100 punti O fare più punti possibili Piuttosto che dire Ah no Ok il campionato è andato Faccio giocare le riserve E poi L'abbiamo sempre detto In Champions È complicato Cioè l'unica volta Che avevamo fatto 102 punti Era la Juve di Conte Che però aveva l'Europa League Quindi giocava di giovedì Infatti Tant'è che In Europa League Facciamo giocare le riserve Cosa che in Champions Non puoi fare Per ovvi motivi Però Giocare martedì o mercoledì E poi giocare la domenica È diverso Abbiamo sempre detto E quindi anche Solo avere l'idea Di fare Oh 105 punti Quanti punti può fare L'Inter adesso Se dovessi vincere 105 105 se non ho sbaglio Non sono 105 Sono 100 Vuol dire che ne perdi una E ne pareggi una Da qua A fine Fine campionato Cioè Può essere un obiettivo Anche mentalmente E che ti fa Poi avere Più Più energie mentali Anche in Champions Che sono fondamentali Deve essere bravo in Zaghi Secondo me appunto A gestire questa cosa Perché si è visto Penso ad esempio Alla partita col Benfica Quando butti dentro le riserve Che giocano poco insieme Va in difficoltà Giustamente È normale Quindi devi essere bravo Appunto Anche qui Coinvolgere tutti E fare bene Sì ovvio Non devi giocare sempre Con le stesse persone Perché il campionato Non dico che è archiviato Ma quasi Però la stagione ancora Puoi far giocare più persone Ma non vuol dire Li lasci allo sbaraglio No Non li alleno No Esatto Esattamente Fate Vediamo fine partita No Giocate per meritare Più spazio Sì Anche perché è un peccato Puoi rovinare Questa macchina perfetta Parliamo del miglior attacco E della miglior difesa D'Europa Non solo del nostro campionato Almeno Finalmente Non avremo più La statistica Dei clean sheet Che finalmente Sommer Lo fanno lavorare un po' E poracce Sempre lì A grattarsi le ascelle Per non dire Un'altra parte del corpo Che poi Nuoce anche Il nostro pantacalcio Perché se Sommer Dovesse prendere un bel voto C'è il modificatore difese Invece no Se prende sempre sei Perché non gli fanno mai un tiro Oh Difese avversario C'è attacchi avversari Mettetelo un po' Alla prova Però non è solo Merito di Sommer È merito anche Della fortissima difesa Dell'Inter Ed è proprio qua Che andremo a parare Con il nostro giochino E visto che abbiamo detto Di mettere la prova Le persone Mettiamo alla prova Il nostro carissimo ospite Metteremo alla prova Il nostro ospite Enea Con un giochino Glielo fai te Noi è giusto C'hai tutti Ma lo presenti anche? Dai presenti Vai Vuoi presentare il tuo gioco Chi preferisci Tra due nomi Ok Ok quindi Gli daremo una serie Di nomi Ma che peculiarità Hanno questi nomi? Sono... Non me lo ricordo Cosa sono? Sono dei giocatori di calcio Ah sì vabbè ovvio Ma che giocatori sono? Che ruolo hanno? Eh difensori Ok difensori E di che squadra sono? Dell'Inter Quindi Tu avrai un elenco di Va bene Di difensori dell'Inter? Ok a posto Ci siamo 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 Non è un'interrogazione No è tranquilla Tu avrai un elenco Di difensori dell'Inter Devi essere proprio veloce 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 Uno dopo l'altro Chi tieni E chi mandi via Tu dici chi tieni E poi ti verrà dato Un altro nome Ok quindi Difensori dell'Inter Vai Chi preferisci tra Ranocchi e Miranda? Miranda Tra Miranda e Godin Miranda Miranda e Vidic Miranda Miranda Kivu 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 Kordoba 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 Bergomi 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 Lusio Bergomi 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 Materazzi Bergomi 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 Pavard Bergomi Bergomi Skriniar Bergomi Bergomi Bastoni Bergomi Bergomi Acerbi Bergomi Bergomi De Vrai Bergomi Bergomi Samuel Bergomi Lo zio Lo zio Lo zio Lo zio Lo zio Lo zio Scusa No no Ti posso chiedere una cosa? Gentilmente Puoi rileggermi? Ce n'era uno che iniziava con No No con la L Com'è che si chiamava? Lucio Lucio No ma perché lui era No ma perché lui era C'era un difensore Ce n'era un altro Lucio Che anche lui Magari 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 Io preferisco Magari Lui tra Bergomi E Lucio Preferisce Lucio Scusate Lucio Perfetto È stato molto Molto bello Lucio Lucio Come Sembrai Bozingua Bozingua Magari Mi metteva a leggere Lucio No tra l'altro Caressa l'altra sera C'è il nuovo Bozingua Che non mi ricordo chi era Che cos'è che ha commentato Caressa Prima di partire per Per Pechino Express Ha commentato Ha fatto un giocatore Che ha detto Questo è il nuovo Bozingua Da come lo Ma ce n'era uno Era un terzino del Borussia Aveva fatto Destro o sinistro? Destro Lì sa Durm 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 Poi con la sua R Durm No tra l'altro Bergomi È stato squalificato È stato squalificato Non so ne senti visto Bergomi è un Allena È una scuola giovanile L'Accademia Inc L'Accademia Inc Andre Giosetti Ed è stato squalificato Perché ha spinto Un dirigente avversario No Dallo zio me l'aspettavo Lo zio Infatti quando ho detto L'annunzio Ho detto No vabbè Cioè Lo zio E invece no Così Piccola Più la statistica Visto che l'ha continuato a scegliere No sì C'è proprio un amore incondizionato Poi anche lo apprezzo Come commentatore Tecnico Grande Quindi Bergomi Bergomi più anche di Samuel L'Iero combattuto È Il cuore che ha preso Il sopravvimento Ci sta Ci sta Perché Bergomi Spesso Cioè Tutti Se lo ricordano come Come il commentatore Ma Bergomi calciatore Cioè Non è semplice stare Quasi vent'anni Una bandiera Una bandiera In una squadra come l'Inter Un giocatore che A 18 anni Ha esordito un mondiale E l'ha messo Dentro E ha vinto La Coppa del Mondo Cioè nel senso Si parla troppo poco Forse perché in quegli anni Il calcio italiano Aveva Un calcio diverso Sicuramente Aveva Aveva i Baresi Aveva i Maldini Aveva quei giocatori Non è mai stato Il difensore centrale Di riferimento Sì Perché Ha sempre avuto Baresi Ma c'è stato Maldini Comunque non era Un difensore centrale Però Nella difesa dell'Italia Spiccava di più Magari un Maldini Però Bergamo è stato Là veramente 20 anni Cioè lo paragono E che poi c'è stato Un passaggio Di consegni A Zanetti Cioè Zanetti Non ha mai fatto Il punto di riferimento A livello tecnico Dell'Inter Però non puoi non avere Un ricordo Cioè da tifoso Interista Non puoi non avere Un ricordo positivo Di Zanetti Perché è sempre stato Non ha mai dato Nell'occhio A livello tecnico Però era sempre lì Sempre costante Nel rendimento E quindi Si è una scelta di cuore Assolutamente Lui era sempre lì E noi Saremo sempre qui Venerdì prossimo Alle ore 5 Per commentare Ovviamente L'eliminazione In Champions Dell'Inter Che è la grande Vittoria Deliminazione La sorpresa Del Brighton Che vince 8 a 0 No vabbè La grande vittoria Del Milan All'Eden Arena La Volgia Sanna Volgia All'Eden Sarà come andare In Paradiso Dopotutto Cosa cerchi Sotto il tavolo Mi stanno chiamando Da sotto Ah ok Ma ti stanno chiamando Col coso No 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 Proprio da sotto Stavo ricevendo Messaggi strani Ringraziamo Noemi Per Per Lucio Per Lucio Esatto No vabbè Per averci orientato Come sempre Anche divertito Con il meraviglioso Giochino Ringraziamo anche Enea Per essere tornato A trovarci Grazie a voi Grazie a voi E Fede Mi tocca ringraziare Anche te Io ringrazio te Per la seconda stella Rimanete Rimanete sintonizzati Perché fra una Mezz'oretta Se non sbaglio Non so se sono già Qua fuori Voi avete sentito E ascoltato Settimana scorsa Giusto Sì Settimana venerdì Scorsa Esatto Com'è andata Come prima esperienza È stata bellissima esperienza Soddisfatti E voi sarete Venerdì prossimo Giusto Ogni due venerdì Esatto Non sappiamo ancora Se ancora da qua O dalla nuova sede Appena sarà pronta Restate aggiornati E lo saprete Esattamente E restate sintonizzati Perché alle 6 e mezza C'è il nuovo Programma Dell'altra metà Del progetto Dei ragazzi del vive Breakpoint Giusto Il corretto Il nome del programma Con i ragazzi Che verranno qua A esporlo Quindi vi aspettiamo Sintonizzate Le 6 e mezza E ci rivediamo Noi invece Per venerdì prossimo Alle 5 Ciao a tutti Buon weekend Ciao Ciao